salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme a questo nuovo video di minecraft della project 2000 3 bene mi sono sbattuto tantissimo ma per fortuna per fortuna non ci tagliete meno male che avevo fatto il 10 10 10 di questo che ogni ogni piantina mi dà tra uno stack e due stack di essenze quindi siamo a posto però ragazzi il cristallo quello lì questo qui l'ho quasi finito cioè aveva 6.000 passa usi e rifarlo è un casino perché mi devo fare un altro di questi perché un bug non mi fa usare questo qua per fare quello deve essere pulito pieno e questa è una cacata gli altri li possiamo fare sono usati questi no comunque tenderò a fare quello infinito così tanti saluti al pifero ho finito tutto come vedete non c'ho più niente è una desolazione infinita ho fatto il cubo che ho già messo sotto quello lì che si faceva con 4 di questi infatti mi sono rimasti solo 4 vado a fare il se ho fatto il 6 mi ha dato il cosa compiuta vado a fare questo che finalmente tier 6 mamma mia non ci posso credere e adesso vediamo come funziona perché non ne ho una minima idea allora ho messo mi sono messo un segno che qua sotto c'è l'uovo l'uovo il coso fatto quello che avevo detto il cubo che questo qui il drago necrux troppo uno solo non devo ammattare di nuovo l'enderdago a fare un altro quindi insomma non è tutto più facilissimo allora cresce 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 e lo sapevo no impossibile ma allora che cazzo mi dice che devo avere io mi sono ammazzato per niente no dai per me non cresce rimane così ci prova ma non ce la fa rimane 12 per cento l'hanno bloccato perché non avrebbe senso se lui dice che deve avere a meno che non abbia un raggio qualcosa sotto ma ne dubito vedete che si è fermato non va più avanti mi sembrava strano insomma sì a meno che non faccia l'incrocio per fare dieci ma cinque me ne da proviamo a fare così allora questo lo togliamo questo lo togliamo proviamo a far così e così amato tempo di farlo allora ok tu non mi hai dato i semi ma che strano oddio ragazzi per farlo questo mi sono morto mi fa piacere che me l'abbia dato per carità però insomma non faccio altro quindi posso fare solo i semi che che è una casa credita ma quello lo faceva già in automatico quindi non è che possa fare non posso mettere neanche nella cosa che mi fai cosi normali no perché è non mi fa fare un cazzo ragazzi in questo seme qui a parte metterlo qui se io faccio così e mi viene fuori quello hanno crescendo in croce non lo posso fare in ottiene mi può far solo crescere il seme di vedete quello lì per prenderlo dietro e tanti saluti però si ferma mi ragazzi non so mi tocca mazzare di nuovo l'entendago per fare il livelling il levelling del levelling perché se no non me lo fa fare purtroppo e me ne da pochissimi mi serve un altro uovo adesso starò qui un altro dieci minuti perché mi serve un uovo per fare un uovo devo fare 18 di cui no 27 di questi ne ho 16 ah siamo a posto e faccio uno di uovo è una che non avevo già per fare i pannelli solaro e niente ci vediamo fra poco adesso cercherò di fare più che posso di questi e volevo fare qua tre altri tre insomma di uova così ne facevo quattro di sono nella spanne di questo livello qua perché lui ce ne da due quindi faccio quattro con quattro uova e almeno così mi da 32.000 all'uno 32.000 per 4 per due perché potenzialmente che li mettiamo dentro raddoppiano gli rf che danno quindi sono 64.000 128.000 per due sono 240 256 che non è malo 256.000 rf con perché voglio fare questo vedete cosa vi serve serve per la matura draconica la matura draconica avrà diversi milioni di rf all'attivo come scudo e ho bisogno che mi si ricarichi più fretta che posso e quindi è per quello che lo faccio va bene ragazzi ci vediamo fra poco ma vi dirò lasciando il mouse col pulsante premuto e lasciandolo andare alla fine un minuto due forse neanche due minuti mi ne ha già fatti un bel po se lo lascio qui la mezz'oretta io mi faccio mi riempio tutta la bag senza problemi non è male adesso un giorno lo farò tutto il campetto anche magari livellato così uno mi dà direttamente una stack però non adesso perché devo ammazzare il drago tante di quelle volte che diventerò io stesso un drago perché porca miseria e quindi ci vediamo dopo beh dai 18 chunk non è male vediamo con 18 chunk quanti ne vengono era meglio 8 però 7 va bene va benissimo io non mi lamento sicuro io ho fatto la lucca cassa per carità che non ci stava più niente queste non mi ricordo cosa servono a per sì ciao porca miseria io ho seriamente ho seriamente paura però vabbè andiamo pure avanti nel drago non lo posso farmare mi tocca di animarlo ogni volta probabilmente ci sarà un modo per ammazzarlo più in fretta allora questo è un famoso uovo cosa dico è un famoso cuore verde che servirà per avere ancora più vita naturalmente c'è per avere la vita massima devo averne 10 e ammazzare 10 volte l'ender dragon oppure il wii di schettro non è che sia facile più facile il wii di schettro eccolo qui il mio trofeo bello e amato sono contento quindi cosa facciamo mangiamo per l'amor di dio se non moriamo no non muoio però mi importa andiamo a provare a fare questi soldi a panni lo faccio off camera ragazzi se no vi uccido dalle palle che vi faccio allora il solito devo prendere tanta tanto vetro me ne serviranno circa 10.000 vetro ne ho vabbè ne ho 5.000 non è che sono messo male vediamo qui quante ne ho non ne ho un cazzo perfetto mi sembra più che ovvio ovviamente me lo raddoppio dai sono abbastanza sicuro contento lo metto qua con molta calma ma poi non è neanche vero perché la calma non c'entra perché mettiamo qui un po di roba ragazzi ce ne ho tanta ecco qua qua ok qui vedete quante sta facendo questa fornace è veramente una cosa indicibile da quanto è bella e poi con poco mi fa tanto quindi quanto saremo saremo arrivati a mille vediamo un po a 10.000 quanti cazzo ne volevo mi sono già dimenticato quanti mille servivano ho fatto i calcoli velocemente ma evidentemente vetro 5.000 possibile si dovrebbero bastare però mi faccio tutti dai tanto avete visto come si fa non è che mi invento qualcosa materiale ce l'abbiamo metto un po di questo per sicurezza e ci vediamo fra poco a dopo ed eccoci qui ragazzi mamma mia quanta roba usato è veramente sconvolgente io non ho mai usato così tanto materiale di vetro ne sono rimasti 5.000 va bene ma di ferro ne ho usato a parte che di vetro ne ho fatto anche di più dell'altro volevo dire ma di ferro ne ho usato tantissimo ma ho usato legno una roba sversa dopo vi farò vedere questo è il 7 l'8 non me l'ha fatto perché manca questi ce li abbiamo questi ce li abbiamo questi a quelli la mancano questi qua mancano che si fanno con la luminite non li abbiamo luminite figuriamoci se ne mancasse qualcosa porca miserica e abbiate pazienza perché è veramente sono qui tanto lo vedete dal counter che sono qui da un bel po porca miseria ce la faccio più mettiamo via un po di roba adesso tu mi devi fare questi qua questi penso perché questo è il 5 e questo qui è il 6 ok fammeli 4 me ne servono 3 per 1 va bene ok facciamoli ragazzi non ci credo li facciamo vai o mi ha fatti due devo farne altri due però è già un bel inizio dammila questo ti prego per il mondo di dio che bello questi qua ti danno 32.000 l'uno quindi sono 64.000 per 228 e che praticamente è il risultato di questi perché questi qui fa 8.000 per non perdere proprio via tutto ok grazie e mettiamoci quelli ecco qua adesso vi farò anche altri off camera adesso per farvi vedere 1 2 mamma mia è uno storage altissimo poi questi producono 128.000 tac 256.000 storage 256 milioni scusate tac no era quello storage questo qui oddio non ci sto capendo più un cazzo ci credete allora generazione 32.000 capacità 128 era 32.000 ok e questo fa 64 adesso e adesso credo di sì perché generazione 65 ok perfetto genera 65 l'uno 65.000 rf su tic l'uno quindi siamo a 128.000 612 120 130.000 e quindi è tantissimo ne sono veramente felice con uno storage incredibile perché abbiamo cioè 256 esagerato adesso li farò anche per gli altri in alto ne ho quattro di quei vecchi e la farò sono felicissimo ragazzi perché è stata dura veramente è stato un incubo farli ma adesso mi mancano solo tre di questi è uno di questi no quattro di questi così arriva 6 e che poi faranno due di questi vabbè ci vediamo dopo ed ecco qui ragazzi l'ho fatto mamma mia che pazienza che ci vuole far tutto veramente da una soddisfazione incredibile per carità però insomma adesso abbiamo una generazione esagerata di rf dopo ne farò degli altri di questi vibran per carità palmo di dio non so se riuscirò a fare altri capaci di altri di questi qua perché mi sono ammazzato non ce la faccio più o li faccio ogni tanto quando ho tempo magari faccio prima e prima i mirror dopo farò i panel di l'oligallo 1 se li scrivo ce la faccio perché mi manca qualcosa non ho messo qualcosa li ho persi ovviamente li ho persi ah che bello l'ho perso non so sarà caduto giù di sotto probabilmente ah di pazienza ragazzi amen quelli li rifaccio non sono certo un problema amen mi è dispiaciuto per carità questo è l'esubero che mi ha avanzato che dopo metterò vediamo se il mirror mi è rimasto qualcosa si 123 e i fotovoltaic che mi è rimasto questa roba qua perché ovviamente non sono andata a contarli ragazzi era troppo il punto che dovevo fare e quindi dai sono contento sono contento i luoghi di drago li mettiamo da parte ci scappano un altro due di questi che non è male dove fanno i quattro quindi devo andare giù ma i luoghi di drago alla fine se mi sto off camera c'è AFK volevo dire tenendo avvenuto il pulsante destro una decina cinque minuti e facciamo ci riempiamo completamente quindi io penso che alla fine non è neanche importante a fatto il campo siamo così veloci con la beta bom miller livello 3 che è insomma va bene sono contento abbiamo ammazzato l'endel drago adesso devo ammazzare il windows character allora cosa dobbiamo fare per ammazzare windows character dobbiamo fare le foto ossidiana come si fa le foto ossidiana non ho le mie mie idee perché non ricordo più allora rain for ced ossidiana ok eccolo qua si fa col dark steel quindi devo andare giù di sotto a prendere il dark steel di greston off i finiti che ne abbiamo una vagonata e di ossidiana che ne abbiamo una vagonata vado a prendere un po' di ossidiana dicevo che quindi ho a fare ho 199 stack quindi che cazzo ah si è riempito madonna quanti livelli mi ha dato mi ha rimasto parecchio dietro l'ho riattivato si bospone perché tanto almeno qualcosa facciamo insomma che cazzo lo faccio fare ok e questa è andata allora vado a di sotto farmi un po' di dark steel perché questo forse qualcosa ho no l'ho messo qua scusatemi si ma che cazzo faccio con questo non mi ingratto neanche insomma avete capito ecco 64 perché fatti dopo ovviamente non mi basta per fare il resto però 16 eh ma alla fine non ce ne mancano tanti eh adesso vado un attimo giù a fare un po' di di dark steel e ci vediamo tra poco incominciamo ad avere una bella invasione di rane cominciano ad esserci un po' troppe dovrei fare un po' di piazza pulita con l'insetticida qui perché è pieno e che porca miseria non dico che mi laghi però cominciano ad essere tante eh cavolo dove mi giro le trovo guarda lì è pieno pieno vabbè ho fatto il che non so quanti ne ho fatti sinceramente non ci ho guardato ho fatto un po' di volte i giri adesso buttiamo via la zampa qui che vuoi vedere non lo so che cavolo mi scordo sempre attivo questo coso eh facciamo così facciamo così e facciamo così beh non è venuta poca dai va bene allora ritorniamo noi devo fare le sbarre e devo fare uno stack va bene e poi facciamo questo oh che bello fare così veloce lo adoro 32 ci sto ragionando su allora sono 9 9 18 dio me ne servono 50 eh e li facciamo da capo sto che facciamo così eh facciamo così facciamo così perché io effettivamente non ricordo quante mi ce ne vogliono perché devo vedere se in questa versione me l'hanno cambiato 64 dai 64 non mi sento che sia tanto male eh penso che possa anche bastare allora andiamo nel nether caro vecchio nether adesso questo lo tiro su eh userò la spada assolutamente ragazzi perché mi serve un item che mi può andare solo questa spada sarebbe meglio la spada di livello 2 effettivamente ma amen ragazzi amen andiamo pure a vedere che succede dovrei mettermi l'abilità fortuna perché ci può prendere l'abilità non costa neanche tanto però non sono convinto che funzioni come looting con la fortuna quindi allora cosa facciamo no mamma mia questi ragni mi inquietano sempre facciamo che andiamo su qua neanche tanto su finchè non trovo la bedrock una volta trovata la bedrock così mi fa da tetto eh faccio un piccolo spiazzale ma piccolo piccolo dove evocare il wither skeleton eh ovviamente mi sono dimenticato la soul sander e le teste di wither ma questo è un altro paio di maniche tanto ormai mi conoscete come sono fatto ecco la bedrock che bello allora mettiamoci bene qua e cominciamo a rompere un po' di roba tanto non mi serve tanto spazio eh mi serve un 8x8 massimo perché devo fare un 6x6 quindi un po' di spazio devo avercelo e mi metto a scavare qua dunque quanti siamo? 3 4 5 6 7 e 8 ok così se lo volete fare anche voi fate come volete io ve l'ho solo detto perché io lo faccio così di solito se funzionano anche perché questa versione ancora non ho fatto ho fatto poche prove quindi anzi non le fate proprio stavo pensando perché il gioco è stato aggiornato due volte in due mesi in due mesi e mezzo quindi eh l'ultima versione l'ho giocata comunque la sto giocando con voi quindi eh quindi 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 abbiamo detto 1 2 3 4 5 facciamo così ok così mi piace di più ok all'altezza ovviamente non va bene perché lo scheletro è alto 3 devo farlo alto 5 perché devo fargli la base e il tetto beh il tetto usiamo quello che c'è allora questa siamo così può andare bene allora mi devo siamo alti 2 quindi 3 così ve lo faccio vedere poi lo chiudo io da solo eh tanto è utile che faccio vedere ecco l'altezza va bene questa qui ci dovrò mettere tutto quanto il pavimento di eh rinforzo d'ossidiana ma adesso non tutto perché io eh voglio stare fuori cioè non sto dentro insieme a lui se no oddio che cazzo ho fatto non sto dentro insieme a lui se no mi mi fa un culo che a capannone però voglio vedere se riesco a farlo esterno lo ammazzo e tanti saluti ok questo perché è venuto qua non lo so facciamo così dato mai ho finito ragazzi inizio a tagliare che cazzo taglio ecco qua perfetto benissimo ok adesso lo ricopro solo il pavimento e i lati eh perché lui intende a esplodere a sparare 8 mila milioni di cose e allora qui dopo non ha più un senso questa questa questo questo luogo insomma lo chiudo completamente tanto io posso rompere l'ossidiana quindi l'ho rinforza l'ossidiana a differenza di lui che in teoria a livello teorico fino alla versione prima non poteva allora quanto è alto 1 2 3 1 4 mi tocca scendere uno perché ovviamente io pavimento lo devo fare ragazzi questo pavimento qua lo farò in forza allora quanto grande 1 2 3 e 4 facciamo 5 per sicurezza ok perché devo fare il muro quindi il muro mi va a togliere un punto un pezzo allora qui dopo devo ricordarmi assolutamente che è il posto dove scendo no siamo fottuti ok benissimo dai così ammazziamo qui posso ammazzare già 3 4 volte volendo adesso non ho le teste ovviamente perché figuriamoci sì mi ricordo le cose ok stavo pensando eh posso anche provare a fare così facciamo così dai questo lo rompiamo eh fatica dai che ce la fai però abbastanza devo mettergli la velocità adesso che c'ho un livello gli metto le volo metto di fortuna veramente ok allora facendo così questo simpatico wither non dovrebbe rompere dico non dovrebbe perché non dovrebbe quindi lui ha uno sponi qua e 3 quindi quindi io qua metterò così così perfetto dopo qua lo rompo perché a meno che 3 1 di qua 1 di la facciamo così sto calcolando ragazzi è che qui non c'è un centro così ovviamente lui ha bisogno di una destra e una sinistra a meno che non faccia così dopo il centro c'è ecco si posso fare così eh sono molto è perché lui c'ha un'esplosione iniziale che non è proprio male eh è un problemino però dovrei riuscire a sopravvivere spero allora proviamoci è perché se non ci provo non lo so proprio mai allora così 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 e vado a fare dell'altra tanto devo tornare indietro ragazzi non è che posso farci qualcosa ho dimenticato della roba comunque per farvi capire questo quello chiuderò farò una una striscia può fare anche qui tutta laterale vuota adesso questo lo ripita dove posso provare ad ammazzarlo in unica cosa stavo pensando se non devo forse meglio chiudere un altro po' adesso ci penso comunque vi faccio vedere a dopo ok ragazzi alla fine ho deciso di farlo così quindi mi è abbastato il materiale dovrei riuscire a batterlo vedete ci arrivo lì quindi a meno che lui non non salga troppo in alto io rimanga lì e devo fare un po' di provole perché al massimo faccio così prima che mi faccia male sì nel caso dovessi arrivarci ok al massimo perché lui comunque è alto 3 non doveva passare qui giusto non ci passano neanche ok perché la slab non c'è della rinforza di obsidiana sarebbe molto meglio però vabbè proviamo a fare così tanto io ci passo lì no al massimo faccio sempre tempo a chiudere la metto qua per sicurezza e vado a prendere le teste e la soul sand a dopo intanto qua mi sono visto teste di anna che ci sono altre due di queste bug io continuo una volta che le vedo ragazzi le metto dentro e vedete l'ineaggio a 4 quindi dai non importa le teste di cavolo di sti sti cosi dove cavolo sono che non le trovo sono limitato cercando una volta possibile eh per carità ma non vorrei ve le buttate allora qui sono le creeper le cose ce li ho sotto gli occhi vero ce li ho sotto gli occhi ce li ho sotto gli occhi non trovo le teste porca miseria dove le ha buttate non è che gli ho detto di buttare per sbaglio o non è che ve le butta lui per sbaglio ma è molto strano io non vedo teste qui ehm file disco non vedo teste che è strano che non abbia solo test che discreto vida eccolo qua me le ha messe qua perchè non ho però non è che ne abbia tante io pensavo di molto di più oddio come posso c'è modo di farle si con questo questo mi serve a me che mi droppi gli altri teste eh si con questo dai alla fine o con questo non ha più costato costa troppo eh volendo lo posso fare dai si fa dai si fa meno male perchè sennò ero nella merda eh questi qui quanti ne ho eh dopo la foglia eh scaglieli ok ne faccio un po perchè ci sono pensavo sinceramente me ne dessi di più eh così poche sono rimasto un po' malo vabbè adesso buttiamo via sta roba che non ce la faccio più vederla quando qui continuo ad andare e sono contento così allora finita la figura di merda possiamo pure andare a fare un'altra perchè comunque faremo un'altra mi sono abbastanza sicuro quindi si insomma vediamo eh 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 un secondo secondo eccomi qua allora eh ovviamente mi sono dimenticato dove era il punto giusto e adesso mi trova di trovarlo allora era qua da qualche parte perchè ho detto vengo su vengo su vengo su era qua era qua ragazzi mi sono perso di nuovo ma perchè mi perdo sempre era qua ok devo mettere un qualcosa che mi identifichi il tutto perchè sennò faccio figure di merda altranza e quindi adesso facciamo così almeno sono sicuro che devo guardare in alto eh qui rompo perchè sennò è un casino mettiamo le cose qui così almeno so che devo finire lì perchè sennò ragazzi non ne esco allora ci vedremo poco qua però insomma si allora ci mettiamo dentro poi mettiamo le le anime qua qua siamo un po stretti lo so eh molto stretti tanto che non riesco neanche a mettere la testa sono contento allora un attimo solo devo fare in modo che sia più facile così è troppo difficile allora adesso rompiamo un attimo qua perchè non posso fare così ogni volta sennò ci metto in tanni devo mettere almeno che la testa sia libera allora adesso proviamo a fare una cosa dai facciamo così così la testa ci devo libera le teste se me le dai però sei molto gentilo allora una due e tre cazzo la messa la messa non ci posso credere allora testa di scheletro ok guarda che ci sta mettendo una testa di scheletro che ci metta così tanto allora attiviamo sto coso per carità ecco qua e mettiamo la testa al suo posto sulla soul sand possibilmente sabbia delle anime ok la messa accendiamo e vediamo che succede qua io penso di aver fatto bene eh perchè non va che cazzo è successo perchè ho fatto un fail epocale vabbè ci vediamo dopo allora riproviamoci magari lo spazio che non andava bene infatti adesso l'ho modificato un pelino speriamo di farcela ragazzi perchè è veramente tosto eh non dovrebbe passare di qua però aspettiamo e vediamo aia la botta esagerata che mi ha cacciato non lo sa nessuno allora io eh starei un attimo in save proverei così per vedere se gli faccio un po' di danno si eh vado a fargli più danno possibile tanto avete visto la cacca di questo piccone poi io finisco con la spada perchè eh mi serve assolutamente il suo eh drop che sia eh che è molto raro quindi con la spada con fortuna che ho ehm dovrebbe vedete adesso mi faccio un po' di danno mi faccio un po' io ma io ho tanta forza me ne ho dimenticato che ho avuto tutti i bonus di forza certo prendilo però mi raccomando ok ucciso mamma mia che forza c'ho non pensavo che eh il bonus fosse così tanto stella del nether eh del del nether un altro qua questo è giallo quindi solo il nether oh me l'ha dato ragazzi me l'ha dato che cosa gradita questo non si può ovviamente farmare però grazie a questo noi possiamo fare questo grazie a questo io posso fare ehm il seme che mi darà le stelle del nether è quello che io voglio puntare ragazzi tra stelle del nether e quell'altro siamo a posto quindi adesso che vi ho fatto vedere come si fa ogni volta però mi da un trofeo vabbè adesso che vi ho fatto vedere come si fa più mi davano anche di queste lo faccio tre quattro cinque sei dieci volte quello che quello che è perché me ne devono uscire tre di queste se no non posso farlo con tre di queste posso fare questo che dopo vado avanti a fare questo che ecco questo ci vogliono quattro ah beh sì tanto quattro volte devo ucciderlo per forza quindi quello siamo a posto questo mi da quello che faccio così mi no sembrano quattro di queste per fare una di quelle quindi sedici un po' le ho dai vabbè ce la faccio ragazzi vado avanti un po' così noi ci vediamo il prossimo episodio mi raccomando mi raccomando niente scusate mi invito come al solito a lasciare un like un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate per adesso video salutare sciva ciao ciao ciao